Ecco il nostro gruppo, noi siamo il Mosca Club Ticino di Pavia. Ci ritroviamo qui a casa di Pietro almeno una volta al mese per condividere pizza e costruzioni di mosche. Noi pratichiamo la pesca mosca, che è un tipo di pesca sportiva che nasce almeno nella forma in cui la conosciamo modernamente in Inghilterra nella seconda metà dell'Ottocento ed è nata come pesca della nobiltà, una pesca non volta a catturare pesce in quantità per nutrirsi ma per il piacere di praticare un'attività sportiva. Noi cerchiamo di mantenere viva la tradizione di questi nostri avi pescatori, tradizione la quale ha visto in Mario Riccardi, un illustre concittadino, un nome veramente famoso nella pesca mosca a livello mondiale e lui è sicuramente una delle persone che nell'immediato dopo guerra ha dato un contributo per diffondere la pesca mosca in Italia. La difficoltà è quella di riuscire a lanciarla a quanti metri? Assolutamente, diciamo che una distanza media di pesca è intorno ai 15-20 metri, anche se ci sono lanciatori che sono capaci di lanciarla a distanze molto più grandi. È un lancio difficile, non è naturale, va appreso. Sono un novizio del pesca clopticino e mi sono avvicinato solamente da qualche anno a questo gruppo di pescatori a mosca, pratico anch'io la pesca tradizionale della pesca mosca secca e appunto insieme a Pietro, Maurizio, Paolo e tutti gli altri vado volentieri a pescare almeno un... Quindi non sei andato dal negozio barbershop o dal presidente a scoprire la pesca mosca? Sì, è esattamente così, sono andato proprio da lui che mi ha insegnato... È passato da me nel mio negozio che è un mio bozzettino storico di Pavia da 37 anni. Mario è una persona fantastica, lui ha, è una di quelle pochissime, uno su cento che capisce... La vostra filosofia. La nostra filosofia. Filosofia della purezza. Della poesia. Perché pescare è una poesia per lei, presidente? È assolutamente una poesia. Allora, noi siamo un gruppo di amici che si riuniscono qui da dietro abbastanza regolarmente e rappresentiamo quello che è oggi il Mosca Club Ticino di Pavia. Allora, la buio che si fa sempre ai pescatori a mosca, Petri Hai. Petri Hai. Petri Hai.